Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere che cosa ho comprato da Wawa per la casa e per i nostri cagnolini. Andiamo a vedere. Allora, la prima cosa che abbiamo comperato è la cuccia per Oghi e Olivia. E l'abbiamo pagata, c'è ancora scritto sopra. 11,50 euro. Vediamo quanto tempo dura, poi ve lo faccio sapere poi. Poi abbiamo comprato la paletta perché la nostra si è staccato il manico e quindi ne ho presa una nuova. Ha 1,50 euro. Poi abbiamo preso il bastone nuovo per la scopa perché il nostro l'ha rotto. ha 1,50 euro. La presa multifunzione. Vai, metti a posto la nuova. La presa multifunzione. ha 8,50 euro. I fazzoletti con i gattini ha 1,20 euro. i bidoni della spazzatura. Ah, chi c'è lì? Gabriele e Sabrina. Adesso Gabriele non c'è più. da scriverci qua sopra cosa c'è dentro. ho copiato mia mamma e mia sorella. Anche loro li hanno così con qua scritto plastica, carta e uno per l'indifferenziata. Penso che useremo il giallo per la carta, come sono i bidoni di adesso, il rosso per l'indifferenziata e il verde per la plastica. i bidoni costavano 5,90 euro all'uno. In questo ci abbiamo messo un po' di cose per non prendere le borse. Allora, questi snacketti per Olivia da masticare così vediamo se la smette di mordere tutto in casa. Queste salviette, bisogna iniziare a fare scorta anche per Pia. Poi, questo capi delicati bebè, ecco d'arteggente della Chanteclair, sempre per lavare i vestitini di Pia. Questo ha 2,49 euro. Queste 0,99 euro. E gli snack per Olivia 1,79 euro. Lo snack per Oggy, anche questo 1,79 euro. Altre salviettine, adesso devo solo decidere quali tenere per Pia e quali invece usare per noi. Questi ha 1,20 euro. Le mollette, perché tra che io le faccio cadere, tra che sono rimaste fuori dal sole, si spaccano. E Olivia, che se le mangia, sono sempre senza mollette. Queste le ho pagate 2,99 euro. Ne ho presi anche di altri tipi. E costavano queste, mi sembra 0 euro. Allora, queste 1,49 euro. Poi queste che sono fatte così, 0,79 euro. E poi invece quest'altra, sempre... Queste qua 0,79 forse. Poi anche 0,59 euro. Non so perché sono uguali. E queste qua, sempre 1,49 euro. Di tanti colori, mi piacciono un sacco le mollette colorate. Poi abbiamo comprato la pettorina Olivia, perché le avevamo preso un bellissimo collare con i brillantini. Che però... Se lo sfila... E invece così con la pettorina... Non riesce a sfilarsela. Poi tanto lei è piccolina. E abbiamo presa rosa, con le zampine e gli ossicini. Molto carine. I pennarelli con la spugnetta da lavagnetta, che mi ha dato il mio vicino di sua figlia. E che volevo appendere quando daremo il colore ai muri in camera delle bambine. E poi le candeline. Una, questa qui, è per Gabriele. Che il 28 di febbraio compie 9 anni. E invece, questa qui è per Giada. Che gli anni li ha già fatti. Ha compiuto 5 anni il 9 di gennaio solo. Che la candelina si è rotta. E poi sono stati tutti un po' male e non siamo riusciti a fare la torta. Allora, adesso che poi la faremo per Gabriele, ne faremo due e festeggeranno il compleanno insieme. Questo era tutto quello che abbiamo comprato da Wawa. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ed attivate la campanellina, così da ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo un video. Mi spiace se ultimamente non siamo stati molto regolari. Se c'è stata una pausa. Ma io non sono stata bene. I bambini non sono stati bene. Poi c'erano le vacanze di Natale. Quindi, stiamo riprendendo adesso. Al prossimo video. Ciao! Ciao!